Finalmente, come vedete, stamattina siamo venuti a prendere il pulmino dell'ANFAS nuovo. È da un paio d'anni che noi raccogliamo fondi con varie iniziative e proprio in questa occasione volevamo ringraziare tutta la cittadinanza, tutte le persone che hanno contribuito all'acquisto di questo pulmino. Abbiamo fatto delle cene di beneficenza, varie altre iniziative e finalmente è arrivato il momento e questo pulmino è arrivato. Volevo che parlasse anche Sandro per dire a che cosa ci servirà questo pulmino. Eh Sandro? Sì. Come lo usiamo noi? Questo pulmino lo usiamo andando a casa e ritorno. Al centro, al centro ANFAS, sì. E poi lo utilizziamo in varie cose per fare delle uscite, piscina, museo, tante altre cose. In più siamo andati in montagna, a Cotterugio. Anche per quello ci è servito, esatto. Quindi, sì, è un mezzo senz'altro necessario, indispensabile, sia nella quotidianità e sia per tutte le uscite e le attività che facciamo nel corso dell'anno. Grazie di nuovo a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo sogno. Grazie. Grazie. Grazie.